Gli amici di Cosilam, il consorzio che si occupa dei prodotti della Valcomino e dei Montiaurunci, mi hanno spedito degli ingredienti fantastici. Andiamo a vederli. Miele millefiori, dei peperoni a filetti e una crema di peperoni DOP. Ed infine la marzolina, un formaggio tipico al latte di capra della zona di Esperia con la quale ho deciso di farci una cheesecake. Cominciamo dal tagliare la marzolina. Come vi stavo descrivendo prima il formaggio, questo è un formaggio tipico della zona di Esperia. I proprietari sono Concetta e Giuseppe. Giuseppe è colui che si occupa delle capre in questo posto fantastico dove le capre si nutrono di erbe eccellenti e la moglie Concetta che ancora trasforma a mano, infatti vedete la tipicità del formaggio, all'interno del proprio laboratorio. Quindi facciamo dei tagli molto grossolani perché tanto andremo poi a sciogliere il tutto. Metto un po' di panna all'interno del pentolino e la andiamo subito a stemperare. Appena si surriscalda andiamo a inserire un pochino di colla di pesce già mollata nell'acqua in maniera da attivarla. Il tempo che si surriscalda un pochino inseriamo la colla di pesce. Una volta sciolta la colla di pesce inseriamo subito la marzolina. Facciamo sobollire piano piano fino ad ottenere una bella cremina. Una volta sciolto il tutto possiamo aggiungere la ricotta di pecora. Ci siamo, mi metto sul tagliere e andiamo a stemperare con una ricotta di pecora a temperatura ambiente. con il calore indotto anche la ricotta si scioglierà. Una volta stemperato il composto andiamo ad aggiungere un poco di miele millefiori abbastanza neutro come come sapore ma nonostante tutto sempre molto intenso della nostra amica Francesca Stozza. La sua azienda si chiama Binfra. Anche lei si trova in una zona montuosa molto bella, si impegna moltissimo per quanto riguarda il suo lavoro con le api, produce propoli e anche prodotti di bellezza. E questo millefiori fa proprio al caso mio per questa ricetta. Aggiungiamo il limone, lo aggiungiamo prima in zest e poi proprio in succo. Un pizzico di sale, ricordo che la mia cheesecake è una cheesecake salata. Giro il tutto ed il composto dovrà riposare per almeno due ore all'interno di un frigorifero a più 4 gradi. Questo è il risultato dopo due ore di frigorifero. Come vedete una bella crema. Per il topping ho pensato a questa crema di peperoni, pepper dop, di peperoni di ponte corvo dop, dal gusto molto pungente e interessante. Quindi che cosa vado a fare? Direttamente in padella, una bella dose di crema di peperoni, accendiamo la piastra sempre a media potenza. La lascio molto grezza così dopo non la vado a filtrare perché a me piace questa consistenza. Assaggiamo e come vi dicevo prima molto molto pungente dal gusto agrodolce. Aggiungiamo una piccola quantità di agar agar. Andiamo a sciogliere il tempo che si attivano i poteri addensanti dell'agar agar e poi andiamo a stendere direttamente su una placchetta. Anche qui avrà bisogno di almeno due ore di riposo all'interno di un frigorifero ad una temperatura di 4 gradi centitri almeno. Andiamo a stendere. Ovviamente io già ce l'ho pronto. Andiamo a prendere la placchetta. Come vedete già tutto bello steso, solidificato. Andiamo a creare con un coppapasta anche perché poi alla fine dovremo andare a formare la cheesecake all'interno di questi stampini. Quindi coppapasta leggermente più piccolo della circonferenza dello stampino. Andiamo a coppare belli decisi e con una spatola andiamo a recuperare il nostro disco perfetto. A questo punto non ci resta altro che parlarvi della base della mia cheesecake. Che cosa ho fatto? Non ho fatto null'altro che andare a formare dei grissini, sgretolarli e fare un rapporto di uno a uno con del burro fuso. Appena il burro fa presa sui grissini, una volta messo in frigorifero, abbiamo la base pronta. Quindi prendo la crema precedentemente fatta con la marzolina, la vado a mettere all'interno del mio stampino, leggermente al di sotto della base del pirottino. Andiamo a lisciare ed infine il topping. perfettamente sopra. Lo andiamo a modellare con le mani e anche questo ha bisogno di almeno almeno mezza giornata in frigorifero. Quindi lo potete preparare la mattina per poterlo mangiare la sera. È arrivato il momento di impiattare. Per quanto riguarda le guarnizioni ho pensato a quest'altra azienda fantastica, il Ponte Corvese, che produce un peperone dop a filetti. Anche questo molto interessante per quanto riguarda sempre il concetto dell'agrodolce. Quindi andiamo a fare dei piccoli rotolini con il peperone a filetti. Li andiamo a mettere sul topping creato sempre invece con la crema di peperoni, qualche cristallo di sale maldon e la mia cheesecake salata è pronta. Qui c'è tutto il territorio.